Dettami imposti dal governo e di vieti di circolazione rispettati quasi in toto. Anche questa Pasqua del tutto particolare è passata promuovendo valtelinesi e valchiavennaschi nonostante le tentazioni dettate dalle condizioni meteo-galeotte. Perfetto Pasquariello, ci siamo appena lasciati alle spalle il weekend pasquale. Qual è stata la situazione lungo le strade che portano alla nostra provincia? La situazione è andata molto meglio di come ce l'eravamo immaginata e di come l'avevamo programmata nell'ambito dell'elaborazione del piano per i controlli da parte delle forze dell'ordine e degli spostamenti dei cittadini. Nel senso che abbiamo avuto ingressi nella provincia minimi, minimi, minimi. quelli che sono arrivati sono stati controllati, ci sono state anche delle sanzioni. Un afflusso che ha disatteso le previsioni allarmistiche espresse qualche giorno fa con l'attuazione di un piano delle forze dell'ordine ben organizzato e che ha permesso una cinturazione dell'intero territorio provinciale. Possiamo provare a dare nel concreto qualche numero sulle sanzioni e sui fermi? Allora, sulle sanzioni io posso dirvi che dal 5 aprile a ieri le forze dell'ordine composte da pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e delle Polizie Locali hanno controllato ben 6.677 persone, elevando sanzioni pari a 203 e denunce per false dichiarazioni pari ad 8. Sanzioni elevate a coloro i quali non avevano motivazioni valide per poter effettuare spostamenti che, ricordiamo, sono ridotte a motivi di lavoro, di salute, di assoluta urgenza o per fare la spesa. Misure che possono costare care ai trasgressori, con multe che vanno da 400 a 3.000 euro. Nel complesso va però detto che la provincia di Sondrio ed il comportamento degli abitanti di questo territorio si attestano tra i più rispettosi delle normative, facendo segnare un incremento degli spostamenti durante il fine settimana di Pasqua pari al 15% e ben al di sotto delle medie registrate nel resto della regione Lombardia. Merito degli automobilisti e delle forze dell'ordine verso le quali va il ringraziamento del prefetto di Sondrio. Possiamo dire che gli abitanti della nostra provincia siano persone piuttosto disciplinate e che seguono le ordinanze? Sì, posso dire con grande soddisfazione che i cittadini hanno risposto benissimo alle raccomandazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Interno, del Presidente della Regione Lombardia e anche dei prefetti della Lombardia.